Benvenuti su News per te. Purtroppo non è cataratta. Mara Venier, il marito rompe il silenzio sulle sue condizioni di salute. Prima di continuare iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Mara Venier è apparsa sui social con un occhio bendato, rivelando di essere ricoverata in una clinica romana. Il marito, Nicola Carraro, ha parlato delle sue condizioni di salute. Mara ha scritto sui social, mai tranquilla, grazie prof Cusumano. La conduttrice di Domenica e non ha aggiunto altro, ma molti hanno pensato che fosse stata operata di cataratta. Tra i commenti al post di Mara, molti hanno ipotizzato un intervento di poca importanza. Nicola Carraro ha smentito, replicando, purtroppo no, scatenando il panico tra i fan. Un fan ha scritto a Carraro, chiedendo perché non fosse vicino a Mara. Nel suo commento, ha espresso preoccupazione per la salute della conduttrice. Nicola Carraro ha risposto al fan, spiegando di avere un problema di salute che lo obbliga a stare lontano per sei mesi all'anno, ma ha aggiunto che non si è sentito offeso. Mara Venier, intanto, ha scelto di non fornire ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute, mantenendo un certo riservo sulla situazione. I fan sono preoccupati per Mara, sperando che presto possa fornire aggiornamenti rassicuranti. L'occhio bendato ha generato molte speculazioni. La conduttrice di Domenica Ine è molto amata dal pubblico e tutti sperano che presto possa tornare in piena salute e sorridente come sempre. Il post sui social di Mara Venier ha accumulato molti messaggi di affetto e sostegno, dimostrando quanto sia amata e quanto i suoi fan tengano a lei. Se volete lasciare un messaggio fatelo nei commenti, iscrivetevi al canale e attive la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e news.